Che bello, questo è un bel bagno magico, che bellezza, sento come sale e pota di Roma. Che bella camminiera dei bagni. Vedete? Che fantastico. Ora vediamo tutto. Che magia qui dentro. Qua ci sono tante persone. Che mondo turistico. Andiamo da tutte le parti. Che bellezza, la festa delle donne. Una botta di emersenza, la pizzeria. Eccola. 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 Che bello. Ecco, la merca con l'alto. L'ascensore, ecco l'ascensore, andiamo per prendere, questa è la caramobile. Ecco l'ascensore, si può utilizzare, dobbiamo chiamare che è passavviva. Questa è uguale, no, andiamo a prendere, guarda, che bello, l'ascensore monta carichi, non sono l'altro, prenderà, meno uno, eccolo, stai andando l'ascensore, prendi conto, va a due, stiamo a piano terra, eccolo, stai andando l'ascensore. Andiamo a piano terra, piano terra, che bello, l'ascensore è magia, ecco, andiamo a scendere, 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 questa è la capolinea piano piano, ora piano terra, poi meno uno e meno due, guardate, vedete che bellezza, che bel negozio, che magia, mamma mia, che bella macchina, mi raccomando, aspettate le regole, perché è così, che bello, vedete, questo è sottopattato dalla cala maropile, che bellezza, guardiamo dentro, no, ecco, vedete vedete, vedete, vedete